Temptation Island, Speranza Capasso in ospedale, bruttissima infezione. Speranza Capasso e Alberto Maritato li abbiamo conosciuti durante l'ottava edizione di Temptation Island, il reality show che mette a durissima prova i sentimenti. Dopo vari tentennamenti e tradimenti più e più volte perdonati, la ragazza, durante il fallò di confronto aveva deciso di abbandonare il programma da single. Una volta spente le telecamere però, dopo un lungo corteggiamento, l'uomo le aveva chiesto di sposarla con una proposta da sogno. E dopo vari tira e molla, la coppia è tornata più forte e innamorata di prima. Decisa a costruire una famiglia ed è proprio così che è stato. Proprio quest'anno infatti, Speranza e Alberto hanno dato alla luce la loro prima piccola figlia, Antonia Marie. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, fino a quando proprio in questi giorni i fan della coppia hanno notato una particolare assenza social da parte della donna. Ed è stato proprio Alberto Maritato a spiegare cosa stava succedendo e che l'assenza era dovuta a problemi di salute. Ecco cosa ha raccontato su Instagram. Che ore dopo è così tornato sui social? Poi l'ex volto di Temptation Island ha pubblicato un tenero scatto che ritrae la loro piccoletta e le ha dedicato queste dolci parole.